Sì, grazie Carmine, intanto buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. La notizia è appunto l'Aeria Sun Tattoo, partiamo da quello che è stata emessa ieri dal Tar di Pescara che ha dato il via libera appunto alla bonifica dell'ex di scariche 2A e 2B qui a bussi sul Tirino. Dunque la Edison dovrà bonificare queste aree, si parla di 9 ettari di terreno inquinato che dovranno essere bonificati entro 30 giorni, quindi in sostanza il Tar ha accolto questo provvedimento di bonifica che era stato emesso a carico della Edison S.p.a. dalla provincia di Pescara. Con me c'è il sindaco di bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta, al quale chiediamo intanto come è stata ricepita questa notizia qui in comune. Sicuramente in modo positivo, eravamo in attesa di questa sentenza da parte del Tar che nella sostanza ha confermato quando previsto l'ordinanza della provincia. L'ordinanza della provincia, voglio ricordare, ha individuato il responsabile dell'inguinamento in Edison. È chiaro che Edison a questo punto deve fare le opere di prevenzione, di messa in sicurezza e successivamente di bonifica. Prima parlavamo, prima di questo collegamento, diciamo che molto probabilmente la Edison farà ricorso al Consiglio di Stato. In pagino assolutamente di sì, altrimenti dovrebbe, come dice l'ordinanza, iniziare le opere di bonifica che però, voglio ricordare, sono anche sotto il controllo da parte del Ministero. Questo è un sito di interesse nazionale e chi fa il progetto per la bonifica è il Ministero. Voglio ricordare che il progetto già è, addirittura è stata già fatta la gara, è stata giudicata ad un'impresa già a febbraio del 2018, la bonifica non è partita perché il Ministero ancora non firma il contratto con la ditta giudicatrice. Io credo che il Ministero stava aspettando questa sentenza e credo che a partire da questa sentenza il Ministero potrebbe avviare le bonifiche proprio attraverso la firma del contratto con l'impresa. Sono consapevole, quasi sicuro, che nei prossimi giorni Edison farà ricorso al Consiglio di Stato. Per queste due aree parliamo di metalli inquinanti, cioè di sostanze inquinanti che sono presenti in questi due terreni, la delle ex discariche 2A e 2B. Parliamo di metalli come piombo, mercurio, orsenico, rame, alluminio, ferro, ma anche vari composti clorurati riconducibili alle produzioni e alle sostanze impiegate nel periodo di proprietà dell'Edison. E qui parliamo della discarica 2A e 2B. Per quanto riguarda invece la situazione della discarica Tremonti, che forse è quella un po' più nota proprio sotto i piloni dell'autostrada, qual è la situazione lì? Diciamo che ormai alla discarica Tremonti stiamo parlando di una situazione molto avanzata. Siamo alle azioni propedeviche all'inizio vero e proprio della bonifica. In questo momento si stanno facendo gli allacci con l'energia elettrica, si stanno montando le centraline di monitoraggio, si stanno facendo tutte quelle opere che serviranno a breve a far partire la bonifica vera e propria. I tempi sono abbastanza stretti, adesso si farà un monitoraggio dell'area che durerà 15 giorni, ci saranno tre mesi di fermo, si farà un ulteriore monitoraggio e poi inizia la bonifica vera e propria, però ripeto tutte le azioni propedeviche, le azioni da fare sono già in essere. Questa è insomma un po' la situazione che abbiamo voluto riassumere anche con la telecamera di Diego Martelli e con il sindaco del comune di Bussi sul Tirino, Salvatore Lagatta. Carmine, se non hai altre domande da studio ti restituisco la linea, noi naturalmente continueremo anche ad... Una curiosità, ovviamente gli interventi sono noti, ma anche nel caso della discarica a Tremonti possiamo chiedere al sindaco chi poi pagherà questa ingente opera di disinquinamento di tutta la Val Pescara. Ecco, qui ci sono ancora dei contenziosi giudiziari aperti, qual è il suo pronostico, qual è il suo scenario? Chiedeva il direttore sindaco chi potrebbe pagare, chi pagherà appunto la bonifica per la discarica a Tremonti, insomma lei, qual è il suo pronostico in sostanza? Sulla discarica a Tremonti o sulla 2A2B? Sulla discarica a Tremonti sta pagando Edison, sulla 2A2B dovrà pagare Edison, però voglio ricordare che già a partire dal 2010 sono stati presi dei soldi dai fondi del terremoto circa 50 milioni di euro finalizzati alla bonifica, all'industrializzazione di queste aree, il che significa che lo Stato può, avendo già questi finanziamenti, iniziare la bonifica e poi farla a danno di chi ha inguinato, e cioè di Edison. Bene, mi sembra una sottolineatura importante Anna, sì. Bene, grazie, grazie. Sì, quindi se... Grazie. Sì, stavi concludendo. Grazie, sì, restituisco la linea, scusa, c'era un... No, mi sembra una sottolineatura importante perché è chiaro che poi a prescindere da quali saranno gli esiti giudiziali si parte e si comincia, e questa è sicuramente una cosa positiva per Bussi, ma ovviamente anche per tutta la Val Pescara. Grazie ancora, grazie al sindaco Salvatore Lagatta, ricordiamo questa sera alle ore 20.05 nel fatto avremo un approfondimento proprio su questo argomento. Buon lavoro.